Vieni. Dove viene questa cosa qua moriamo sappiero. Sali, 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 sali. Io ho un park, non ho ancora. Che schifo. Vai dentro qua. Oh, comunque cazzo, stiamo scopando di brutto. Quei cazzo si entri sto merda d'edificio, come cazzo... Ah, di qua, di qua. Occhio, occhio ai camperoni, eh. Qua sarà più, dici. Arma. Tanti avvolti. Che ti serve? Medi. Oh, c'è qualcuno! Tini. Occhio. WTF? No, merda. Dani, vieni via da lì che ti spara con l'R.P.G. Spostati, spostati! Stiamo dietro. Boh. Vabbè, avevano le armi delle... delle casse. Che schifo. Ma io muore il Rinucerondo, WTF? Oh, poi loro sono in tre ogni volta, dio porco. Ma perché noi siamo... scusa che... Ma... perché siamo in due, scusa noi? Non ci possono mettere in due qua? Non ci sono le duo. Eh no. Io sto killando i Rinucerondi ora. A starrive. Boh, completiamo il terzetto, mettiamo un terzo alleato. Oh, vai. Yeah, boy. Però ma i Kings ancora laggano come prima? No. Guarda la mia live, 30 di ping. Mentre vedi i raid che sto facendo, mentre... E le genialate che faccio. Dica. Quante sorrisi ha quella cosa? È un bel po'. Ho faccio questa partita e vengo anche io. Ok. Uh, aspetta. L'arco è un po' un... No, non vedo niente, no? Oh, WTF? Non posso mirare in testa. È una testa enorme, il PG. Ovvio. È più soli, mi va verso sinistra, pazzesco. Stavi niente. E poi rinici le ronde, però i dinoselvatici me l'hanno killato, il GG. Non mi muore. Non mi muore, eh. Non mi muore, eh. Non mi muore. Non mi muore, Fra. L'altro l'ho killato. Pronto, WTF? Non mi muore. Non mi muore. Che genio. Ma che? Io. Ma che è il live che mi guarda? Scusa. Scusa. Niente così. Perché se ci muove? Ah, una piccola capretta. Mi vuole dare come il pasto. What? come bro così ci fa poi la vedi in prima persona la pompata si dà così e quando gli do no way bro non mi spara non mi spara andiamo la città di giovanni ma non ho senso no Fran mi muore ho c'è la hitbox bugata perché infatti gli sto sparando qua no tutto il senso è un granato no no Fai vedere guarda, non ci credo E io sto già sparando Colpita, colpita Colpita Il King Il King Le coordinate Allora Per raidare con la base Vabbè l'alleato viene inciso a pugni Che testa di cazzo Eeeh Qualcosa di intelligente Devo fare Quei danni stanno andando a luttare Però non so dove sei tu E non si Si mette di qua Posso spegnere il gen Però non so dove sei tu Però non so dove sei tu Proprio che mi butto e ci muoio Non si capisce Boh, mi fa vedere abbastanza bene Eppure pusho sta torretta Ti dici che riesco a puscere una torretta Che tipo è Beh, ti dici con una... Per la scuota No, la leggera La pesante Ah no, una? Eh? Una Non lo so Non lo so Devo controllare Ok, armo rai Ah no, ok, non è una Non è una Ok Non riesco Poi dopo è ancora che si dà una mano Noi cosa, se vado qui sopra Butto lì il coso Col gen Eh Ma come lo butti giù Colpo di bazooka Ok, ok, ok Ci sono, ci sono Ci sono, ci sono Ci sono, ci sono Easy proprio Ok, quanto Non ci sono Ma No C'è Ma C'è E C'è 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 E Ma ma che paura si è fatto prendere un colpo mentre c'è un bambino il nemico oh c'è un bombardamento di fascistiani dai Fran andiamo 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 alle casse e poi c'è la cassa ai rubori di noi non so che faccio il giagno dai Fran andiamo 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 sono fuori dalla safe non c'era l'ascensore una volta easy no Fran devi guardare la live no Fran devi guardare la live ti prego Fran eh ora sto qui Fran davanti indietro e vedi come cazzo butta giù tutto vabbè dimmelo a voi c'è vado fuori a voce non posso è un boosted con lui non è un boosted muori instant delle terrette e poi devi farmare ma insomma nei drop trovi la vita insomma nei drop trovi la vita vabbè c'è and bellissima oh davanti c'è gente sotto con la macchina ma quello facciamo prendere questa cassa dall'altra parte viene che si farm oh sniper dai col termico let's go vado un cazzo però vieni sopra eh tranquilla mmm ascolta ma easy vabbè c'è la finestra parmi son butto sulla finestra easy oh fra c'è uno c'è uno c'è uno davanti me qua eh bello bello please 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 nooo nooo easy vabbè lo scudo non ci sono messo fatta morire c'è un problema c'è un problema c'è un problema ehm c'è un problema sì big problem oh easy sei morto Dani o sei respawnata? no mh? sono quasi morto no ma non è possibile dai oh se li lancio la granata assordante due 28 due 26 ehm ehm eh no mi sta facendo caricamento il giocatore successivo mmm 373 ok 295 mani 275 ok piedi 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 dai dai in su ah hai la minaccia 25 25 25 25 no ho sbagliato no oh fai ho visto ho visto aiuto aiuto colpiti 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 ho una pistola Oh shit Uccisi Let's go Vieni in safe No vabbè non posso prendere di niente Oddio bro No no non morire Let's go easy kill Oh Però non fare così sempre Aspetta No 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 Mi ha giocato a granata Che schifo Ehm Dimmi dov'è non lo vedo Mi vengo dentro Eccolo per me e no mi spara Perchè devi fare a chi dare se c'è una pistola Perchè devi fare a chi dare se c'è una pistola Madonna No mi spara no Shit 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 L'armor L'armor Ah Mi ha fatto a morire i danni però Mannaggia Avevo una pistola che dovevo fare Ci provo Niente nothing Oh Oh my god No fra aiutami Arriva di Oh che arrivò aspetta Oh Oh No Ehm Big problem C'è Ehm Sono offline che pizzi vero Si però Non riesco Cosa ti serve Cosa? Cosa ti serve? Mmm, niente però What? Hi No, mi sparo un po' di un protone No, dai, mi sparo Un altro? Ah, devo scoppare Che è possibile che non gli faccio danno? Ma farò proprio lì in mezzo, qualcodio Sì, vabbè Ma danno, io quindi così non so che farlo, no? Mmm Dove morì, per favore? Sì, vabbè, così Eh, infatti Sì, cioè, si sono greffarando No Sì, sì Terza persona Ok, va qualcosina Eh, non c'è la palazza Sì, non c'è la palazza Sono in shield, bro Oh Ok, ok Uh, abbiamo visitato a leggendario Mio, 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 mio Please Nice Nice Ok ... No No Dai Damn, bro Oh my god Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Oh sul tetto Oh sul tetto L'ha visto? Ah no Era un pilastro E cazzo Ma qua hanno fatto il roffo benedetto Oh davanti a me Oh l'ho visto l'ho visto Un push Vorrei fare un push C'era un altro lì fra C'è No no sono indietro Vieni qua a casa lì Quello c'è Non c'è baci diagolo Guarda c'ho già Dani muoviamoci Ma se io vado qui mi sparano le torrette Qui tutto? Perché non mi sparano? Oh qua fuori qua fuori qua fuori occhio Andiamo sul tetto Dani No E' fermo qua E' fermo qua Ma cazzo arriva? Stiamo andando? No un minuto Che che stai sparando? Non c'è sparando nessuno Dovrei riparare la rumosa Ah ecco il bicicchino Oh c'è fermo Ecco la macchina accanto a noi Qui dietro Qui dietro Oh cazzo tu fermo Non muoverti Non muoverti Fra l'ho visto l'ho visto l'ho visto col termico E' lì 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 Nooo Ho perso No il loot No 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 fermo c'è gente sotto No no non li sparano Rip Ho perso il loot Digli Non ho perso il loot C'è forse non l'ho perso e riesco a recuperarlo però Che pah Oh Ah no c'è sto qua però Eh Ecco di What? Arriva arriva La balestra Let's go man What's up? Let's go Decisi tutti Easy Easy kill Easy kill Easy kill Easy kill Porco dio Easy kill Mamma mia A vero no Oh shit No Oddio mi sto laggando Farei me laggando Dai dai cazzo minchia oh dai Devi sfruttare un coso per restarti veloce Nooo Lasci stare Dai dai Dio cane non per la minchia porco dio che mi servi come cavi Dio cane Oh dai Non dire queste cose Mi frega un cazzo Mi frega un cazzo Non voglio perdere un game Ti muuto allora Mi muuto mi cazzo me ne frega Figa oh sto facendo una bellissima partita per clippare porco dio lui ce ne va Madonna Perché tu fai Non è bello che dici queste cose C'è abbastanza Il trezzo Eh ma se uno ti dice alcune cose Quindi dice il game e dopo vai giocare già da lui no? Eh Non penso Non è difficile minchia Eh su che mappa sei? Io? Oi Si Ragnar Quanta gente? Non so ora poco credo Non lo so Però ieri era full Non sarmi lo giusto Lascia ma Sto craftando l'armo Ah dai ieri che in pratica questo chi faceva le torri Andavo con una bolla e una mazza Lo addormentavo Fulla roba Infatti mi sono fatto qua un piccolo fob davanti a lui Con la roba sua E' un po' in pietra però Ci sto Ci sono 19 persone 15 Che schifo Cioè non hanno senso i player Ci giocano un bordello di persone E poi non ci giocano più Ma com'è possibile? Un po' i tribù fra sono da 10 Ho spaccato un death wall Cazzo Avrò spaccato un death wall Poi altre 5 torrette ivi Che tipo in tutti siamo a 10 Credo C'è un po' di cose le ho spaccate Eh come lo prende il loot L'ho perso E' rampino Se mi carica Eh non lo posso prendermi se il loot Ma cosa avevi? Eh eh Bazooka C4 Tipo due armor bellissime Forse Ma hai progetti con le armor? No Nice Adesso con l'arma in primitiva allora Ah posso utilizzare Il rampino anche se sono covacciato Perchè m'ho ucciso? What the fuck? No ha senso Non ha senso fra Dai no Vabbè Cioè fra sono tutto covacciato Ho preso il loot La torretta prima non mi sporava E poi mi prendeva Bleh Bleh Pomm 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 Ora arrivo un Naked Mi ero battuto Naked Help me 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 Oh my god Stano Dove sei te Lo sai tipo la cave quella dell'artefatto No Ah sì sì Quella redwood Eh sì Lì Ma avrà la torretta mi spara Allora Oh Dio pover Niente Basta Ho fatto quarto Grazie Dai GG Quarto Sono arrivato Giovo di me Giovo di me Dai Dai Che lotto loro Eh? What? Ma quanto questo ti fa? Ma quanto questo ti fa? Ma questo ho fatto 100 di tempera What the fuck? 300 abilità di grazia 1000 di ossigeno Ma non ha senso Però Sto torrette sono fatte tipo a casichissimo Hai visto ho fatto 1000 di ossigeno Come 1000? Ci vuoi fare nuoto? Ci vuoi fare nuoto? Ci vuoi fuori 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 Noi Allora Ma Pim, para pam pam Pim, para bu, pim, bim Damn bro, oh my god Pim Tu non stai bene Oh, ma tu sei benissimo Ovvio Madonna quanto crafto in fretta No, non ci vedete che mi è andata anche quello Ah voglio, tra 300 me lo sono fatta Stupido Eh, ora mi faccio solo vita Senti quanto veloci dai? 190 Ah no Cosa ci devi fare con tutta quella velocità Eh, sì, serve, serve Eh, certo, scusa Oh, c'è un tipo che farà con la flac, siete, eh? Col pompa in mano No, ma dove? Eh, Iglans No Oh, Fran, non ha manco i guanti Che faccio, che faccio, che faccio Attacca Fran, sono io Un piccone Oh, oh Ha provato a spararmi L'attacco Quel piccone Ma infatti è un buon personaggio maschio Non voglio Oh, non riesce a colpirmi, non si è fatto manco un po' di velocità Cioè Qualcuno Per quanto riguarda 3D 5D Ah Mi sta sparando cal' pompa 81 1 proprio venire ai suoi ma sono senza volatili senza niente nooo 1.105 ho ucciso vabbè c'è il panel di 8 secondi 1 armor in più 1 armor e fra stanno tramando un mana ah no hanno tirato un mana in creonautia fra i mana ci sono eh hanno tirato un mana in creonautia come ci sono i mana dove 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 è sulla spiaggetta di E oppure la sella iiii si arrivo però sono nudo iiii si però mi hanno messo degli spike attorno non ti preoccupare sto avvenendo con un paio di c4 non ce li ho i c4 oh dio c'è il tizio pure c'è il tizio attento è che c'è un tizio con l'armor di ferro e il pompa dove è ah qui vabbè ci li ho vabbè ora ci temiamo mentre del liftero tanto io ieri me l'ho rotamato aspetta c'è un nudino easy ride oh mi prendo pugni ah non mi fa niente per il cento di tempera il cento di tempera bro oh guarda la live guarda la live ora non posso sto facendo contro un pro fra sto dando una mischia questo con cento di tempera tre pugni mi ha rubato cioè mi ha dato trenta iter fuori damn bro oh my god guarda se vuoi io lo uccido easy bro vai 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 mi piace this is the plan tribe of zinc fra quello che mi ha ucciso col pompa con la inflak che ti dicevo prima vai lega il lato no no è dentro degli spike gli spike orrì lo faccio vedere io gli spike bene easy vabbè oh oh c'è altri c'è altri c'è altri c'è altri vai vai vado di torcia io vado di jambing delle pompate però non riesce a colpirmi ma manda da noi scusa no 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 perchè le mande no what the fuck no dove sei fra dove sei sono sulla spiaggia non ci sei sono questo ok si invitami è negli spike c'è pure il tizio col pompe vai qua davanti a noi è il mano è dentro le spike ci sono due tizi una senza niente l'altro colpo un po' è flacca l'ho colpito un po di volte con la torcia attento fra la sua destra la sua destra eccolo attento fra io sto prendendo a torciate ah prende torciate da onde ci muore hai il pompa in one shot ah ah hai la pelle aspetta se hai la pelle me lo uccido non ho la pelle però è una cosa questo oddio che è morta indrega io mi so che sto a coprire il 22 dove è la sella? ci sentiamo troppo è dentro il mano dentro il mano lì sopra sopra la roccia fra coprimi fra faccio le bolla lo devasto what? dove è andato? lì sott'acqua eh si va sott'acqua delle volte vai via vai via così almeno viene c'è pure un altro tizio l'hai sottato sott'acqua col cecco madonna col cecco eh si col cecco ah no vabbè no niente easy troppo forte c'è fra cosa è immaginabile inspiegabile quanta roba cosa aveva? era la sua flat grifone crio oh vabbè però prende grifone però tutto il tuo loot e te lo lascia c'è più roba della roba mia però te lo lascio oh c'è un altro tizio fra 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 non ha niente eh si prende il loot lo prendo io vai prendi 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 peso nero fra peso nero eh porta arriva lo bolo ma non è quello è fatto non è fra quello è fatto fra sono tre tizi ah no due tizi ma dove stanno non li vedo sotto l'acqua uno sta salendo sta salendo sta salendo what ah mi dai qualcosa eccolo ah no ma che fa il numero what the fuck zink è quello che mi ha ucciso c'è il suo compagno tributo eh fra roppa vita fra non muore fra fra dammi qualcosa dammi la flac e il pompa tipo no fra sono peso nero vedi dentro i lotti di quello devo buttare un attimo in fertilizzante fra cioè non penso che ho preso tutto no hai preso tutto ho preso tutto cosa ha posto questo easy hai preso tutto hai preso tutto easy grief uff livello altino bello bello pure tutto rosa aspetta sali in attimo metto un po' di roba quanto fertilizzante vai fra no fra non mi ha preso tutto l'inventario c'era un bordello di roba allora ho preso quel tizio fra ecco lo vedi sulla spiaggia non muore what eh sì fra i quattici ha il pompa volato grifonavo tutto ok con da roba con da roba oh oh questo era questo era loot op e fammi seguire scappiamo aspetta blueprint per l'arco fra op oh oddio quanta roba bella arco con 3 letitek buono 6 letitek 9 12 letitek no sono materiali in view anche 3 fucine industriali eh come le sfacchiamo le sfacchiamo le sfacchiamo altri 5 letitek blueprint per tutto blueprint cecchino fabbricato op fabbricatori 2 cassa oh mio oddio guarda vediamo anche sta base e ci facciamo i silute ce l'hai l'armor tua no era rotta la sua guarda come si ripara guarda con cosa si ripara si si lo so con cosa si ripara metallo grezzo o pivre avere frecce infuocate pure oi che è ah la sua volta vabbè metti le fucine le spacchie facciamo tutto aspetta metto una cassaforte così deposito un po' di tutto eh ti conviene forse metterlo dentro perchè non ci andrà niente o più lo so c'è bisogno che lo dici no aspetta e se si può accedere al banco al nord mi dice sblocca fra vabbè fra il banco dal lavoro mi ci devo riparare le cose dai fra non si può sul tetto dove li guarda 133 100 cale levati ora ora tipo così ma sta vicino non ti vuole spaccare si non serve un cazzo no dai ci sta ci sta intendo il gen sbocciato guardano dei blu print o qui se ci hanno fabbricato 200 di danno trovo tutti i blu print ok e quanti ok i letti tech no era chiamato di letti tech parte fatto ecco la pelliccia ha troppo infatti c'era un bordello di roba non me l'ha fatta prendere bullet vai tutti i proiettili dentro allora se vuoi un po' di colpi di bombe io ce li ho no no fra tutto dentro ti pari l'armor ti ripari shot che non è più qua no fa rifle va rifle tipo dentro no prova faccio la roba pieno di pasta ah c'è un cieco per te se vuoi 165 io c'ho 200 di danno però shot io c'ho l'arco compound con quanto danno 156 eh io scendo 72 vabbè dai dammi se non sbaglio eh però non c'è i colpi io cerco fra eh è vero bisogna craftarli vediamo se ci volevo farli vabbè però c'è i colpi dell'arco compound ho i rampini dai non c'è i rampini allora ci volevo farlo due lingotti vuoi fare non ci credo vuoi fare i colpi dei cieco due lingotti 13 lingotti per riparare l'armor fra dove sono le fucine le spacchiamo facciamo colpi cosa vabbè piazzala qui dentro e la spacchi ugualmente eh aspetta un secondo fra mi riparo l'armor eh riparo tanto c'è già un po' di metallo grezzo l'ho fatto non costa niente ripararla si è fatto vai ripara tutto aveva i cibi della viverna un po' di roba da riparare mi sa cibi di verna oh mio dio vai ripariamo ripariamo tutto 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 proprio vediamo come è il cibi della vibe uff oh no fra è spettacolo no fra spettacolo avrà già il nome no fra è bellissimo io un uomo della vibe se spacchi queste fucine cioè diciamo a parte full metallo la base no fra c'aveva pure le mutandine bellissime no dai è mio 400 di cosa e c'ho quella che ho rubato il tizio mi manca del metto poi prendiamo ecco l'ho rotto 300 mi hai rubato quello 371 si se è un pezzo ah beh fa niente fa niente l'unico pezzo buono che ho praticamente oh mi hai rubato anche la pettorina mi sa no 387 è qua no scherzo scherzo io mi tengo sempre un armor in più lo vuoi il cibi del golem si aspetta io non so andare fuori che dovrò fare aspetta mi serve questo aspetta un che si il bianco è po tutte le cose ultimi Cibi del rino aveva pure Tieni quello del golem Tieni le forge Tieni tutto Tieni quello da sbattare Una base intera mi stai dicendo Non droppare qua Non capisco niente fra Cioè ci serve la pasta ciamma Perché era piena Oh c'è il lanciafiamme? No Io no Che io c'è colpi onestamente Eh anche io c'è colpi Ma devo droppare un po' di schifo Poco roba anche il macinatore Poco Tra l'operere il golem però 27 di armor 2 in più di quella Pochi lingotti ma dato E' una cassaforte fuori Non essendo la lascio GG Eh peccato per il mana che non aveva E' una cassa alla buona Ti servono un po' di colpi Li sto craftando A me servono un po' di colpi del cecchino Ho 379 colpi del compound Dove un po' Ci servono le frecce del compound? No No Quasi finito di droppare Cosa stai droppando? Chifo Felicia pelle Un botto di frecce sedative Dardi sedative Hai visto la livella? Sì L'hanno chiamata Troppo bella Lalla Lalla mi chiamata Ah no no Chilla Chilla perché Chilla tutti Poco roba C'era preso nero No Com'è che ha fatto A avere preso nero? Cioè Ti hai preso Il suo mentero Ci andavo preso nero No Non mi torno E poi hai preso l'invento Va bene Che ha talmente Così tanta roba Che ti metti le mani in testa Quasi finito Mi giuro Ok finito Oh mio dio Però mi sta fremmi raggando Se ci vuole niente Ti fremmi ragg Un po' di volpi Lasciameli Riprendere Tu Sì ma me ne prendo Giusto 200 Oh bene D'altro Lasci Ok mi prendo Il cieco Tu C'è il cieco Quindi i pareti Li sto mettendo Che sono miei Non li toccare Ah cioè Puoi mettere un po' di lingotti Nel banco Cioè nel Il ruffo Eh? Puoi mettere un po' di lingotti Nel fabbricatore Colpi di cosa? No no Lingotti Metallo Lingotti Nel fabbricatore Ah no Quindi c'è Faccio il cecchino buono Ora Con 300 abilità di creazione Ma che c'è qua? Che c'è qua? Quanto danno? 202 Buono Clis minimo 60% No vabbè Non c'è Però mai 300 Vediamo 7.9% Vabbè Quanto danno? 2.15 Ci sta Cioè mi hai consumato tutto il polimbero? No ok No no Costava solo un metallo cotto Non ci credo Che cazzata 1.100 lingotti Abbiamo pure l'arco con Pavloppoche Che costa 1.700 lingotti Gli Ghi Gli Ci do in pratica Farmi solo lingotti? No Farmi drop Di grandi lucide industriali F2 そう Mentre Mentre GG microwave O bi Orcos Si to La Ma io devi arredare con la base Oppure Tammiamo qualcosa per tankare Conviene Boh, fammi vedere con la base Vieni Oh Vieni Sotto di noi Ah, ok Qui dentro Qua c'era un dead wall L'ho rotto Anche il portone Poi dentro Sto wrong c'erano torrette E l'ho rotte Quello che manca E lì davanti Quelle torrette Ma sono pesanti Sì E quelli fra Easy fra La cavolata Da sopra col bazooka No, no, no Da dietro Eh Ma dietro ci sono anche le torrette Ah, e spacchiamo quelle Fammelo vedere Vabbiamo Come fammelo vedere Che sanno Boh, se no Facciamo stego Bazooka Tanto Quante sono Saranno con indici No, di meno 13 per vecchio Oppure fra tiranti Se vai con lanciarazzi Ti tira un rampino così Non farlo il tuo pit Ci sto Eh, aspetta un'ottima Aspetta un'ottima Aspetta un'ottima L2 per mezz'oretta Sì, sì Esatto Sto facendo? Io non lo sento Sì, lo sto facendo Eh, servirebbe la birra qua No, da sopra Eh, fra però Ti devi avvicinare Fai una cosa Vieni qua Puoi venire Puoi venire Oddio Da qui Basta che mi segui Quello che faccio Cioè, basta Che ti lecchi il muro Poi ora Da qui Dai Hai levato il rampino Vabbè Coglione Qual è la wave Che bella Ancora per mezz'ora Ma dovremmo andare bene Aspetta, ce l'hai bazooka Sì Hai colpi? Sì Ok Vero pro... Ma no Questa è vera Questo è il partitempo Un sacco No Ma ha rotto l'arma Aspetta No, non è più Eh, ha fatto un sacco a pelo Secco Ci sono Non li hanno levati Allora gli si mash Aspetta, lo piazzo No, qui Se è possibile Cioè, c'era un server Dove tipo con Il sacco a pelo Si fa con 34.000 feci umane Eh, le feci umane Vabbè no Ma l'hanno fatto impossibile da fare 34.000 feci umane Perché mi deve sparare? Cioè Tu devi saltare Mi devo fiondare Sì, ti devi fiondare Ho paura però Davvero lo faccio io? No, non ho sparato Non ho sparato Ho il kit Ho il kit Ho il kit Il kit ce l'ho Lo so Però non ha sparato Madonna Che faccio io fra? Eh, mi sa che è meglio Fra mi sa che ho perso il tuo kit No Non dire ste cose È sotto terra Sì, fra, è sotto terra È qui È sotto di noi No, l'ho preso Come l'hai preso? Fra? Qua, fra il corpo Fra io vedo In effetti ti mando lo screenshot Lo vedo sotto terra Sotto di me Beh, casomai Lo raccinavi Niente di via Dai, non posso Vabbè, comunque Vediamo What? Guarda È qua il corpo Facciamo il contrario Eh, dai In bazooka Aspetta Andando What the fuck Eh, ma ce l'hai colpa di bazooka ora? Sì Una ancora Ah vero Non l'ho sparato Sono coglione Aspetta Fermo Mezzeretta Intanto se ne faccio il sacco a te Lo sai facendo vero Che non lo sai Ah, anche tu Cioè, anche io prima non l'ho sentito Non mi sarò sui piedi Eh, fra prima è sbagliato Non dobbiamo andare da sopra No Però da sopra Sfacchi direttamente tutto Non può far andare? Eh, puoi andare Spero Da due ore che clicco alle due Secondo me Ce la fai? No Ok, allora Non è andata come mi aspettavo Una birra servirebbe Esatto Però ci mette 6 ore a farsi la birra Vabbè, in questo server no Credo Dici? Boh, non lo so Oh, non mi rubare lui Però magari No Sto prendendo Ecco Sto prendendo un ottimo Bajoo Damela a me Proviamo ora E non abbiamo colpi Come? Non li hai sparato? Sì che l'ho sparato No Da qui Ma adesso ti vuol dire Pffu Magari Ti giurisparo Poi non hai Poi non hai Ti scioppano No, ho le mutandine Ce li ho Ah, ok Andare 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 No Fermo Fermo No Sei nudo? Non sono nudo Ho le mutandine Il fiarellino Una testa gigante Aspetta Secondo me da sopra era Ultima cosa Eh, se riesci ad andare dietro la No Dentro la minigam Quello che è È fatta Come ci vado? Ci provo? Abbiadando Ci provo No, eh Fratti stanno mirando Stanno mirando Sti chezzi Sti chezzi Quanto è morto Però, se non è Si è pusci da qua E sparo proprio subito Eh no, ti sciottano Fratti, io ci ho sparato il colpo di sparare Lecca il muro Vai verso il muro E vai dietro la balista Fratti, ho provato Là sono morto instant E che faccio dopo che vado la scusa Vai dietro la Eh, spari Eh, ma gli altri ci sono le torrette Che ci arrivano Sì Oddio Allora dobbiamo provare 300 volte Sì Ma se spari No, 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 no Fai una cosa, fai una cosa Prendi l'angolazione giusta E spara da lì Dove sei Che senso? Eh no Ci ho provato Eh, è difficile Prendere un grosso Sennò salta e spara Sennò Non bisogna saltare O sennò Dobbiamo tamare un hop Eh, facciamo Dobbiamo fare un hop Dero, fra Giravolta Easy Ma neanche spara C'è Impossibile Non spara il bazooka Fra Vabbè Rip Aspetta, fra Non ti ho messo il sacco a credo Hai pure la salla buona per l'optero Aspetta, provo a prendere l'angolazione col bazooka Però è la salla buona per l'optero Uno prende il bazooka Va sull'optero Te dici che è easy? È una cavolata Però serve la birra Non so se ce la facciamo lo stesso Fermo, fra Fra, fra Prima fatti rampinare L'armatura mimetica OP Aspetta, non ho più mani Ecco Le mani ce le ho Mi sono scomparse Col fiorellino di fuori What? Oh tu c'è pazzo Se io salto mi sparano Che coglione Fatto non è il fatto dell'angolazione Ma se tankiamo C'è il corpo del tizio C'è il corpo del tizio Si riesce a prendere Mi giuro Mi giuro, fra È là Là Dove è dove è? Aspetta È lì nell'acqua Davanti alla torretta Lo vedo, fra Il corpo C'è un recente Ma scusa ma Che scappa Ma non l'ha manco messa su range alto È un fatto Uh, lo vedo, lo vedo, lo vedo Lo vedi? Eh, ma mi sembra che non puoi rampinarla Eh, fra il rampino Qui Oh No Però guarda dove sono Oddio Tuo tower No, dove sei? Nel tronco Si Ai Fra il loot Devo prendere Oh Cheat Non sono messa Raggio alto No Non ho spaccato tutta l'armor Però io devo andare a ripararla Vole a ripararla Cioè due pezzi tipo imbattibili Si rompe sempre Un pezzo di merda Capito di questo è easy ride Ah Lo so che easy ride Serve Fra qua c'è un hopter Lo tramiamo al volo Ma comunque è uscito la porta aperta Ma è il loot? Si posso Si 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 posso mettere Quattrocento Torrette Cioè nel range Quattrocento Torrette Si possono mettere L'ho rampinato L'ho rampinato Ah Genius Non lo so C'è un sacco ascendente Con 209 di danno GG Che più forte del mio Durabilità 213 Mmm Dove dai PAAAA PAM Ci manca la povera Iperica per i raggi Beh fallo, rompi due pietre e la fai No way bro, oh my god Ma perchè scusa se tanghiamo tipo col trike? La rottola buona il trike Eh? Si trovi la sella buona del trike? Va bene Ah buona Hai la sella buona per il trike? No, non lo so Da vedere Lo so da prima Poi deve essere anche imprentato Non so Ciò ho detto ora Birra oppure Ptera No fra la sotto c'è tanto due volte c'è Eh lo so Secondo me è pieno Se no avrà mai No fra mi è venuto il corpo di genio Dobbiamo Dobbiamo vedere se si sparano pure agli animali tamati Se no mettiamo la c4 sul dodo Eh non funziona No Anche se è così Sparano al c4 No mi basta metterlo tipo dentro Non penetrato Ma non si può mettere la zattera qui nel fiume? In teoria In teoria no Forse neanche si può craftare No Craftare sicuramente si può Buona competenza No, non so No Ha poca vita sto griffo Quanta vita? 30.000 Non so Non so Non so Non so Non so Spaccali 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 Come spaccali? Gli altri 25 Denti Era per la felice Faccio io Sì Sei in god mod Ma ti do Danno oppure? Non mi stai facendo niente Non sento nemmeno il rumore che mi stai coltando Eh allora Non c'è il danno Oh Oh Guarda GG Oh Frato funzionando lo so Non è vero Mi dispiace Ahahah Good mod on Che fai? Cazzo punto Che fai? Cazzo punto Che fai? Non so che fai Non so che fai Fai un letto Fai un lancio Fai un lancio Perché li spaccati? Basta che poi ci vi riposa No non mi faceva Non potevo fare Aspetta Vediamo se i caffè riposano sul letto normale Tieni tieni Una genellata tieni Prendi questo No no proprio Non ho capito che stavamo mettere il letto Mangia i narcodici Eh mezzo un attimo c'è sto letto Mangia i narcodici Oh li mangio Volevo vedere sponzia È brutto essere un go Invece riposa però Vabbè mangi i narcodici Non posso mangiare Dalla gang Non posso mangiare No non posso mangiare Vabbè ma C'è C'è la vecchia Quetta è rinno Oddio wow 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 che giù vattura, provo a trascinarmi fuori mi sei occupato ah! che cos'è? ah! ah! che ridi? che sta arrivando? no oppure mi fa vedere che c'è ancora l'aggiornamento di Eggseland come Eggseland? cosa? giuro ma che cos'è? è l'evento di Pasqua, mi fa vedere che c'è ancora gg che loro hanno fatto quell'aggiornamento di 4 giga per levare una cosa va ha dei nuovi follower, gg ci va? non lo so aggressivo il ragazzo se non funziona ora io sfocco la base oddio funziona... ma scusa ma scusa eh io c'ho un pompa maestro però utilizzo quello la blu con meno danno segnala un genio un genio shish shish no, era un walker e poi... shish ranzi mio caro Renzi la notte lo so che tu te stesso ti pensi ma non ti vergogna? no porca vabbè 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 faccio il piraggio no 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 Pasqua no non piange no 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 ci siamo mi stavo sciocando sul naso no 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 non stiamo scherzando no ma schiudilo farei cosa? ah vedo 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 posto benvenza cosa c'è di utile per andare oltre la fama fracarati di frattini fratto con il suo vai dirai per la umana cerchiamo su una c4 uno va sul mano salta fa lo sprint poi muore e l'altro fai spavere tutto i ricchi le torre te sparano ac4 ho capito capire uno strano e poi se fai tipo salti fr2 arrivi prima arrivi alla base poi per il strano c4 perché c'è il che se noi avevamo avessimo avuto si una flac più decenda c'era spaccata voi sono spoccarla con cosa bro no fra ho la flac più forte che c'ha vai bene però c'ho un bel po' di raggi se tu fai meno ma ma tu sei andrea baci diavolo come andrà crostata una full base di metallo beh frappi usciamo col griff easy con due vabbè quasi rotto ci abbastano ma se mi sparo da qua non succede niente vero no ti sparo non è colpa di bazooka mai visto le terrette così intelligente è genio vai giù io dammi un bazooka quanti colpi vuoi? uno andò giù nella carina sei un fraccio di merda non me l'aspettavo oh che fai calma no no vabbè ma che fai si niente how much for ah boh vai pure oh ah non è che è il nuovo quadro del boss all'arca rossa eh esatto però ce la puoi fare sto vedendo da dove andarci e vabbè dai l'armatura me la sciolgono come è possibile eh nice una batterina in più non l'ho portata già ho la corsa messa no ti stanno mirando ti stanno mirando ti stanno mirando non so però non so più che fare non ce la faremo mai i cadaveri tanto di riparare l'armatura una cazzata no tanto non ce la facciamo mai perché mille volte di me la sicilia quanti colpi avranno no fra come faccia poterli fare no fra no come è possibile scusa che non è esploso ma ti hai visto che ho sparato il colpo di bazooka no ma adesso non ho sparato niente come non ho sparato eh anch'io prima ho sparato e hai detto che non hai visto niente no senza te lo giurassi che non ti giuro bene te lo giurassi no ok provo io aspettami però non ti hai messo il sacco pieno eh? non ti hai messo il sacco pieno già qui sono già il stick rotto mi corre più lento non te lo giurassi che e ti giurassi che non ti truffassi manco se lo volessi amen salva il mondo come si ripara lo scudo? vediamo e noi metto l'armor OP sì quanto sei bello col tuo garoncino non c'ho la pettolina eh vai lo stai facendo? mutandina easy tutto rosso credo che puoi andare credo sto correndo aiee mi sa che non ce la fai no fra c'ho l'armor un po' più a metà cioè a metà durabilità no 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 l'armor troppo scarsa non ce la posso fare sì boh se ci facciamo l'optero è easy fidati di me 2 con l'optero senza niente alimentare se lo lancerò alzi devo andare a riparare l'armatura e anche io boh non ci vado più hm? io non ci vado più lì dove? eh a roccianare perchè c'è così senza gente non lo facciamo come possiamo fare? boh però allora se noi spacchiamo il dead walk ora che sta dietro è easy perchè dietro si fa easy eh ma dietro ci sono mi sa più torrette mi sa da vedere ora ci andiamo no 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 se ti ripari le flac mette tutto in metallo mette tutto in metallo jack of turno non no 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 che succesi non no che succesi non che succesi che succesi che succesi ora si che ho un fob aspetta insomma ho il tetto in pietra ancora no fammelo mettere ora si siamo della mafia e stanno già andando all'altra entrata stavo liberando un attimo l'armo 2 men 1 base è bigliata male per questo posto se metteva con le torrette in alto ci sparavano non io però non vedo le rette di qua compito il retto o non ci sono troppi a sono tutte frasi sono spente no vuoi dici un big bull giallo che c'è un pitbull un big bug sono spenti le rette alcune ma è meglio dell'altra parte si fra easy però sono più della metà sono spente ci sono una due eh ma gli devi fare tutta corsa non riesce no no fra mi sa qui si può andare a un certo punto qua quello che ero fra è una cavolata ma guarda sono spente alcune ma scusa se ti vedo vai da qua se c'è un albolo stop terra wall 20 scusa però ci sono sopra dove dove guarda ti hanno colpito lo scudo aia 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 possiamo portare un trike qua se non ce la facciamo se portiamo un trike no fra riesco rambini mi rambino sforzo allora vedete se però non ce la facciamo poi c'è un trike qua uno si mette a tancare un po' l'altro con lanciarazzi ma credere che sparano al trike ecco 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 però devo dare un attimo l'angolazione dove le torrette mi possono sparare un po' di meno c'è l'angolazione più o meno è dove sei tu però dalla miss forno jayson no no ce la dovremmo fare perchè c'è tipo una mini montagnetta davanti vabbè montagnetta una rialzatura davanti non ti possono sparare quindi mi sa che non ti serve nemmeno rannarla basta prendere l'angolazione giusta proprio so sono morto ma scusa fra fermo fermo e rimani là nooo come vengo ora non ho capito madonna che schifo sono morto anch'io però che hai fatto mi ha fatto alzare in piedi e sono morto come ti ha fatto alzare in piedi eh si ma devi andare tutto stirato devi andare eh eh non l'ho stirato quando sei morto mi ha fatto alzare non fa niente ti mettevi un'altra flac ti mettevi vabbè non ne avevo un'altra c'era in basso mentre dopo ti prendi vabbè io ero bravo ad andarci a piedi non dovrei morire eh no ti colpiscono vabbè un colpo due due qualche a me dipende quanta abitai 800 500 500 così poca? neanche un colpo neanche un colpo dove si è passata? non lo so da la da la no no io capisco da la va bene passo anch'io da la però muoio se passo da la è però è fatto che a me mi stanno mirando niente di che però attaccato al muro eri ma l'ho rotta qualcosa o no? no non l'hai nemmeno sparato ah non l'ho sparato fra faccio io ora faccio io faccio io ma senza senza fra ma com'è che hai fatto a non prendere colpi? cosa? c'è di nuovo l'armor full ahi mi ha sparato cioè non mi hanno dato niente ora è possibile che non riesco perchè poi sono 20 che ti sparano se mi dai lanciarazzi fra spacco tutto ma Fran non capisco perchè non si è fatto niente di danno profilati dammi il lanciarazzi ah? dammi il lanciarazzi vidati spacco tutto eh niente 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 fermo fermo come fai a non morire? 72 di vita vai mettiti l'armor che faccio? che faccio? mettiti l'armor se ce l'hai tutta rotta che pezzi di mangona? ehm pettorina, gambe e i guanti sono praticamente rotti ehm trametti i lanciarazzi e il suo cadavere davanti a me coma eppure un colpo albazurro? si ma che non ce la c'è allora forse non funzionerà ma devo provare a prendere l'angolazione perchè? che succede? no fra no che schifo il gioco non capisco questi giovoschi vuoi riesce a portarmi il cadavere fuori? no come ne ho? rampinamelo mi sparano le torrette dio cristo riesci a uscire dalla cave almeno non lo so eh allora fra tira un rampino il mio cadavere esci dalla cave e poi tiralo facciamoci entrare anche al volo e 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 l'ho tangata e l'ho rata Te l'ho portato il loot Te l'ho portato Hai i darti sedativi, cosa farò davvero ancora Sì, tutto in base Io arrivo a prendere il loot Te va in base, cerchiamo un trike Il piccone con 300 di danno Perché scusa, il divolo dogo? Stai scherzando? No Vuoi tancare con il diplodoco? No E che vuoi fare con il diplodoco? Niente Mi servirebbe qualcosa buono WTF, bro? No, no, no No, no 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 vediamo questa cosa e facciamo un po' di pvp già alle 7 ma cosa che mi ha messo la pellice ah pazzesco che non riusciamo lasciamo stare o no dai fra i silute però il problema è insomma come tankare ma andiamo a tamare un golem come due giorni perché trovarlo livello 20 si gratta oppure fra uno va col golem l'altro con lanciano raggi oppure andiamo con l'optero e andiamo a trovare un po' di sell per trike nei raggi i citamo istante in ma no spari che cosa spari? nel grifone nel difedano spari Siamo spari ma spari la stai spari 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 stai questa 328... no, con 320 Andiamo a prendere un po' di raggi va? Vabbè, recepiamo il grifo Sono stupide Aspetta, aspetta, aspetta Facciamo un attimo, sto mettendo dell'armor più forte La pettorina, questa Questa Dove sei? Vai Let's go fucking go Verso dove andiamo? Boh Ma ancora non è full vida? Ho un raggio giallo a destra, faccio Eh, sotto l'arca What the fuck Qu'è possibile questa cosa? Ora c'è una colgica che campera Qualcosa va di buono? Oh? Piano di colpi Vieni, vieni, rampini Tutto Artefatti Posso fare il boss con il grifone Aspetta Aspetta un po' di colpi li sto prendendo di bugli la Scappa, scappa, scappa Ti hai fatto il boss? Si Ti hai fatto il boss? Si Si Beh, vai l'altro raggio, Fra, dirai di te Fai Aspetta Fra, ma sono tornati col boss eh? Ah no Vabbè andiamo Anche i gialli mi sa che ci sono solo colpi Non lo so, bisogna vedere Abbiamo un'altra boss, vai te Da cal'iiis Ecco, lo so Raw Sembra i gol Vado a mis autore contro il raw Oh, il reggiseno Alspetta, lo metto WTF? Abba dai a via la bossfight Andiamo un attimo a prendere i drop nella cave del ghiaccio, magari troviamo un deal print ascendente con la sella del trike Vabbè Non capisco che c'è sto rumore Eh, quando avvii le boss fight, quando il teletrasporto finisce Oppure quando qualcuno usa il teletrasportatore, ora avviato la boss fight e... Eh, lo so, quello del teletrasportatore, sai Quello della boss fight, non so com'è Che ne senti quando l'avviavo, c'entrovo sempre C'è che qua c'è stata una base Una big base Big base Mandrager fino a fa... Oh, che fai? Che cazzo hai fatto, fra? Ma non ho fatto niente di danno, lol Eh, due colpi Anzi tre C'è un airdrop... rosso Uh, rosso, va... Let's go Let's go fucking go, oh my god Comunque a teoria quello migliore dovrebbe essere il viola Uh, col cerchietto, fermo Oh, fermo, non prendo di niente No, non prendo niente Ah 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 Beh E' avviato quella l'alfa No Beh, non potevo con l'alfa Oh, ovvio Soprattutto qui, nei king Che c'avevo ieri il rino col 30k di vita Lootato, eh E' tipo 500 di danno Gli hanno fatto solo vita Alcuna matata Alcuna matata ragazzi Ben ritrovati dal vostro ccgamer89 Vostro? No, no Sarei tuo al massimo Dal tuo amato ccgamer89 Siamo una forza industriale Siamo una forza industriale Ma io vado verso il drop Io voglio un po' di sele Oh, che cos'è quel cos'è? Che livello è il griffo? 45 GG OEEE Ok 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 C'era una turret tower senza terrette Un'altra, un'altra Un'altra 30 No, 50 Ok Forte No, c'era una turret tower senza terrette Sì, sì, wild Come wild? La torre è wild No, il griffone è wild Ah Eh, è un gufo questo Ciao gufo I gufi Come i gufi Eh sì Sì Puoi mettere che spawn Tg Easy ride Allora mi stai dicendo Non mi sta caricando Entra, entra, entra Entra Tantra non si può buildare Non si può buildare Ho capito però Facciamo i rams Ciao Poverino Lag Piccola lag Piccola lag Ah, ok No, li hanno già blozzato Fra, attento ci sono giorsi di livello 400 Non prendo niente Ah Oh Ah Poi te fra non prende niente Scrivi Try Stego 70 Intanto la prendo Triche 26 Sella dell'owl What? Giga, giga, giga 60 Prendi, prendi, prendi Tuuso, tuuso 74 Sella dell'owl Dio mi sembrava che si era ingazzato l'orso Eh, anche la prima prima Sella dell'owl Sella dell'owl Sella dell'owl Sella dell'owl Sella dell'owl Sella dell'owl RENT1 Blueprint Blueprint Buono Aspetta Gasbass 49 Ehhhh Subito 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 Oddio Col gasbass è easy Vieni vieni fra franzati saliti Sella dell'owl Lì ne vedo un altro Qua c'è Sotto no? Sopra si Mi sembra quello giallo Eh si Uuuu Potevano prendere niente? Non so Una merda La blu era meglio A sinistra c'è anche O a sinistra C'erano i gialli mi sembra Sì lo sa E con i gialli non c'è niente Vabbè Vai Forse D'aria No No Però a sinistra mi sembrava blu Perch' non vedeva nessuna luce gialla O c'è blu C'è No Ah si c'è blu C'è blu C'è blu C'è blu Oddio gasbassi 58 61 All Uuu Giga 75 Rhinocero Uuu 68 Stego Diplo togo scendente No Tengamo col diplo togo Rhinoceronte per i vostri Rhinoceronte 75 armor Carbonemis Buonissimo Rock drape Diplo togo Possiamo tancare Eh ma voglio Non tanca il video Ma che dici? E tanca Va bene Trike 27 Tu quale c'hai? 75 giga Ma non c'è niente What? Un'altra del Tuso Blueprints Tuso 65 Non costa niente Provo se il blu prendi che ho preso io Ah Ma ci troviamo un gasbassi? Se andiamo a fare quella la rossi all'interno Vai entra Vieni vieni Eh con cosa? Col bomba E' vero E' vero E' vero E' vero Cioè ci proviamo No Fri easy E' non c'ho il compound E' c'ho il compound E' c'ho il compound E' c'ho un neutrale sta cosa Vabbè intanto chigliamo sti cosi Attento questo è un livello tipo 400 questo Vediamo intanto i livelli 110 40 170 Dovremmo riuscirci Ok Ah? Di giocare... Warzone? No lo so su Arx Se vuoi venire Sono non boostato Ah! Va bene Stiamo cercando di raidare una base Pugue... Quando vado a mangiare Devo spegnere Ma no! C'è una generazione di armi Si Corro con canno Che è successo? Eh un orso lo sta per mangiare Dai vado qua No non è che mi mangia Ho paura se mi rovino all'armo Che cazzo fa il griffo? E in che server siete? In che server siete? Unicità Unicità ma direttamente fra dal quarto Eh sì però c'è un aggiornamento Vuoi un po' di bevande curativa? C'è pure boss E non ho abbastanza spazio nella memoria Ma no Ma no Ok grazie Aspetta un attimo L'equipaggio Oh non ho nemmeno freddo Cioè ho freddo Cioè ho freddo Vabbè io Raga ma è pesante il Ah no sei minuti Ma vabbè Ma non è che la di me l'ha fatto scomparire Io ho paura fra No fra non ti vanno niente Ombra ma che stai facendo una live? Sì Aspetta la guardo Ci sono il network Da fatti No ho entrato Ti immagini c'è qualcuno full Ti immagini è un bob Lo vogliamo muore No fra non c'è Perché dice che il boss è disponibile Non c'è nessuno Let's go Raga come si può il server lì? Fermo un brand rinando please Oomf Flak Un botto ai flak blue print Tu fermo il bra Tutto Cos'è quella Questa è la vive? No fermo 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 addio cristo Fermo Ok ho tutti i blu print dell'arma Tutti buoni Nice Però con questi pantaloni e radiazioni possiamo fare la river Bella la river Ci sono andato a fare Non ci sono andato a guardare intanto Addio fallout Intanto l'arma non la tolgo Sto che poi non lo sicuro Raga Forse c'è solo il boss Forse c'è solo deathworm alfa Ma non riusciamo mi so fra E' una cavolata fra c'è tipo 5 mila No fra non riusciamo Oddio la capura Kevin qual'è il nome del tuo canale Uguale al mio nome C'è Ma qua c'è l'uscita No fra Non ti buttare Fra non ti buttare perché voi non vuoi Non vuoi più risalire fra Ah no non hai l'uscita fra Fra non vuoi più risalire Fra non vuoi più risalire Non puoi utilizzarli Oh Oh Dici voi No fra dai Mi sai che You stole me in character Fra Che ti potevano usare No che schifo Prova da qualche parte Dai fra andiamo avanti No fermo No fra non ci riusciamo Ma chi è quella skin che hai in testa Fra non ci riusciamo No fra dai non voglio perdere tutto Fra Fra non perdi niente Fra e se perderemo tutto Che ti dironcino Quanta roba avete No dai fra non ci riusciamo Tanto che non posso dire la felice Ma che sono armati fino ai denti Vi definite Fra te dici che ce la facciamo o no? C'è una faccia o no? C'è una faccia o no? C'è una faccia o no? Ce la faccio Ce la faccio Mi so buttò Ad appena che ci muoio Oddio Cristo Te la faccio Se ti erano armati più che Oddio che non mi fate face Non mi fate face Non mi fate se muoio Non mi fate se muoio E non mi fate se muoio Che c'è sta barriera Oh Daniel scopre cosi Ma Sono morti bra Che mi sono buttato Fra ma se mi butto di bolla sopra Non mi spara il letto Fra qua c'è boss Fra qua c'è boss Fra siamo morti Raga buona fortuna Buona fortuna si siamo morti Ma Riperdo il cazzo Fra 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 c'è boss Fra c'è boss Fra cazzo mi hai fatto fa- Butto nell'acqua E eh Avete i rampini no? Avete i rampini no? Vi ha rampinato un po' in su? Fra no no fra ecco Fra ecclo Fra davanti Ch- Noo Cazzo mi hai fatto fare svarano odio che vinde stagionale voleva farla però mi sciotta fa mi sciotta fa mi sciotta fa enorme fa fra marotto armo sparano 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 e la peppa sparani con il cecchino ehm no poi io sono morto vabbè però sono morto ma che sto mostro non si può uscire non si può uscire ehm forse con i lampini fra vieni tipo dietro dietro vieni fra fra questo mi insegue cosa ti capita fra es no no fra no fra dai per serio fra ti prego non mi fa uscire no 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 godo 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 lei è ucciso no no kevin danni sono dolianti franno riesce a colpirmi e lo sto colpendo che va che sto uccidando eh dopo un po' per riuscire a riuscire a riuscire c'è bravo allo uscire di nuovo bra ci possiamo riuscire ah ok ho scoperto come non prendere danno raga ma sto sto boss che dà? niente la morte è un botto del blu brinde quasi? un botto del blu brinde no fra 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 dientro fra è così morto fra è così morto è tutto rosso si è tutto rosso occhio 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 è più rosso di quando notizia il ciclo fra è così morto lo vedi? lo vedi? ma a te ti sta colpendo oppure no? occhio vorrei vorrei no qua non si non si vede tanto da me si vede super rosso easy lo facciamo anche occhio occhio no però non posso percorrere però non posso percorrere perchè? ma mangia le bevande ma però sparalo sparalo ma scusate ma quanta vita avete? io ho quasi un poca io 500 io ho 800 sii si let's go ma non sono non sono un po' troppo piste e robe? livello 20 ma cosa dà? sii a me arriva tipo 4 secondi in ritardo ma cos'è? però hai hai un certo di armory in più mi si è rotta più ma che schifo oh vieni qua fra fra vieni qua uh vi tamate vi potete tamare come si dice ma anche io non ci parlo a niente uuuu che cosa? flak 245 full flak 385 oh no ma che storia raga appena arrivo ma per caso livella lappa di vele va bene vabbè siete già livelli ah comunque hai un set di flak in più si fa no il maglioncino danny uh aspettate raga vado sono tra un po' ciao cioè tra poco ciao mhm cosa ti serve? tutto però io ho tutta armor i blueprint con quasi tutto con 400 guarda è vero problema come si esce da qua eh lo so io come si esce prendi tutte le flak normali oh negli official allora è easy farlo si abbastanza poi puoi buttare pure un rino che l'ho poi dato qua o un terricino eh cosa ti serve? eh tutto come tutto? eh mi mancano i piedini vai i piedini ok da dove si esce ora? guarda ah mi ha fatto uscire mi ha fatto uscire eh ci sono c'erano pure delle alternative che si possono spaccare c'erano altre drop e c'è tutta e però vieni indietro vieni indietro vieni indietro vieni indietro c'è il gigantotauro qua c'è il gigantotauro qua è qui non è l'altra parte non è qua il gigantotauro vediamo ho già vedo miglia che posso svegliere gli sparo no no io voglio vederlo dai raga andateci oggi guarda le vuodi di detto no abbiamo pure l'arte qua di che scrive aspettivo più avanti c'era una cascata ma son tipo ora oddio che schifo le uova di deathworm eh fra da qua non si esce mi sa che dobbiamo andare di qua vieni dieci minuti a me lo sa che da dietro a sto cosa di ghiaccio dobbiamo andare ma dove c'è li hai tanti rampini? eh sì l'hai rotto lo sai da dove esci no? dalla redwood e ci potrebbero essere torrette no non da redwood c'è degli alberi della redwood dove c'è sotto eh nel canyon intendi? sì lì eh sì lì eh però alcuni possono mettere anche le torrette che sono bastardi sono bastardi sono bastardi a dire poco comunque un'assenza non si possono usare rampini what? ha cresciato beh un po' sì perché potresti cittarla così il rampino vai sul cristallo e non ti fai colpire no fra ok ho utilizzato il rampino no fra non ci ho usato il rampino vabbè a sto punto inizio a giocare a warzone vabbè a sto rientrando per prendere il griffo dobbiamo mettere il griffo nel crio come abbiamo ora un po' di flac fra? eh dobbiamo andare a prendere il griffo disegnerebbe fare un pg solo abilità di fabbricazione però dobbiamo andare a prendere il griffo ora eh lo so ci sto andando vabbè raga io vado intanto un'ora non ci fai nulla su work un'ora? come un'ora nulla si perchè posso giocare ora ora posso giocare solo due ore al giorno perchè? eh perchè mia mamma ha deciso così rip rip ok ciao 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 te dove sei? all'entrata della game io sono un drop rosso io sono un drop rosso io sono un drop rosso lo aiuteranno no 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 però non ho possibilità glitch 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 che easy vai vai E' sparato il drop con la sotto, no, blu E' uscita una wave, è tutta blu Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Un eco della madonna Cos'è sto rumore? No Ora si, ora si Altre selle La prende il griffon e viene a prendere Blueprint, Reich, venti re Ma dove la sella Reich più forte quant'era? Ma io non c'ho niente di selle Come? Prima non l'avevi preso quella del Reich o sbaglio? No Blueprint, Carbonemis, 43 Ascendente Oddio Ma vuoi Armatura Peloptero, 58 C'è la sal Con quella della Carbonemis ci tagliamo le basite, ecco Ma vuoi ascendente qua, ZL, 53 Ci ha graftata Che si incazza Puttana tua, ma Ma la vibra è selle, selle del Reich Fra, non ci sono Non c'erano Non ci sono Io sono Flak, la migliore che ho trovato Mi sono Dove sei? Io sono il Draft Ma dove? Nel Canyon Perché sei nel canyon? Buono, non sono riuscito a salire Con i rampini Vabbè Ho tosto con il grifone Cosa? Tanto sei con il grifone, vieni a prendermi Ma se ce n'è il drapperosso Eh, niente Artefatto Facciamo la boss fight Tu devi grifone? No Sono sceso io Perché? Facciamo la boss fight No, sto scazzando What? Cos'è quella cosa? Uno spino morto L'ho ucciso Prima 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 Chissà Dio scuola tornare uno steco a con amata dell'arrivo a con amata no in giro i dirai se tu volevo dare tutti blu print se la dello steco 72 vai per un certo punto di abilità di creazione fra qua se ci facciamo un steco buono la base quella da la raidiamo easy vediamo la sella del rike quando come si graffa a me 23 non ha cambiato beh fra con uno steco scusa ce l'hai le cose per addormentare no da non ci credo che non l'abbiamo portata fino a chi siamo vabbè con la balestra facciamo e basta troviamo un drop quando fc7 addormentiamo un owl per curare è uno steco prima facciamo lo steco no però poi fra poi non dobbiamo mica tankare io intendo facciamo lo steco lanciare altro eh push un attimo con lo steco ci sono torrette spente scusa allora è sfaccato o no non si capisce si 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 porte aperte aspetta aspetta è qualcosa ci pare non è qualcosa c'è secondo me tre no quattro non riusciamo ma hai le frecce sedative cosa hai le frecce si dai andiamo a fare uno steco anche due col mate boost a meno fra andiamo in due due lancerà altri due steco beh fra tanto la sella 80 d'armor è buona mi sa che con gli steco possiamo fare anche la boss fight con degli steco forti stego e bomba fra il rockwell no 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 anche questo qua che livello è quella hole va la vedo tutta baggata 90 buono vai 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 quella colorata quella colorata invece 15 easy easy no fra il livello 15 vabbè si non cambia di o fra mith non fra vai dormendo va no car non avro schifoso vai mi vado vado Eh no, sto volo di merda Con l'arco compound ci muore tra No Non è tanto forza di danno Lo prendo però non entra la hit Ce l'ho sparito 30 anni prima Ma fra fra hit il lol Ci crede che ci muore fra Vabbè anche un piano Però vabbè non ci muore Non lo vavo Deve fare con la palestra Eviti che muore E vi fai ancora Cioè ti percorri Vabbè fra è morto Come è morto che dici? Dai che fai Bisogna fare una gabbia Qua c'è già una gabbia Vedi se è sbloccato Da sotto livello 130 Puoi fammi fare un attimo la gabbia Oh già la posso fare No fra un po' di legna Ok Ce ne sono 230 Ce ne sono 230 230 Quando a me ce ne è uno a livello 25 Vabbè Da me ce ne sono due Eh pur l'ovia Dove sei da? Ti colore l'ho sotto colorato Com'è? 20 Vabbè va Metto la gabbia qui Che ho portato un nemico Spawn Pradeo don't Ma che livello è? Scusa Cent Porta un nemico Dove lo devo fare? Qua me la fa mettere Perché dai Agralo Fragralo 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 L'avevo chiuso Fermo, fermo Oh, oh, chiudi Fra Stai a dormì Hai aperto il te Ma cosa dici? Ma non ho aperto, se vuoi guardare la live Vabbè, ti mando la clip Ti mando la clip Non ho fatto niente Ho 20 metri al portare Ah, ma questo è quello 90 metri al portare Ah, non ho visto Dove sono andate Non c'è il montone Vabbè, che le mammotte Uccide alla prime Sbagliato Ah Fra ci sta a morì È possibile What? Ma ci hai sparato No È possibile, allora Perché ti ho pensato Quanto d'anno la fa balestra? D'anno la 219 Dammi almeno Mi ha 160 Dammi la freccia La freccia Dammi la freccia Non c'è Ah, ci vengono con la 130 Ok, sta scappando Altri due call Oddio, sta muore No, Fra ci muore Paro? Aspetta, aspetta Ti avevo detto Aspetta un attimo Se come Aspetta, la vado a prendere l'altro Scendo il renda Qui, Fra Sopra Sopra un'aria Anche da me C'è un 930 Con due Io già lo sto portando Apri la porta Vabbè, è maschio o femmina? Io sono lontano Questa Mi ha già aperto Fra l'ho già portato io Però mi sta raggando What? Eh, 255 Vai, Fra Ehm, è dentro la capa Perchè Biocca? Ah, è la gabbia da un'altra persona Come? Come la gabbia da un'altra persona? Ah? No, la sto portando da una nostra gabbia Ah, ecco Oh, la prima porta Eh, c'è un 2 hole 140 Aspetta, aspetta, aspetta Eh, Fra, c'è questa qua Vai Esci, esci Eh, non me la fa chiudere sta porta Fra, sta laggando Fra, sta laggando 255 What the fuck? Vabbè, vai Non ciò Fra, 255 Stanno pensando Aspetta che ne chiedo una Un po' chiede la marrone Chiede la con la marrone No, no Quello è bianco Vabbè, guarda Ma perché? No Pure i muschi e gossano Ma per se la gente non sa giocare Non ci so 42 player Non ci credo Che dose Graef Stanno uccidendo Fra Non ci fa niente Non ci fa l'ho Grazie Grazie a tutti. Non ci credo che tossano. Non ci credo. 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 ci credo. non 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 ci credo. Questa costa una tutela se legge che ho preso. Grazie a tutti. 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 What? What? What the fuck? No. 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 No, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 12, 13, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, oh my god non vedo nuffing, vedo nando. ah ah Alla via. Grazie a tutti. 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 E... Grazie a tutti. They're... ... 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 Grazie a tutti. 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 What? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? no wait oh Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.